perdono i titoli ma voi avete delle alternative con l'airbag la protezione abbiamo parlato un sacco di volte direi che questa è l'occasione per vedere un memory cash collect con l'opzione airbag su alcune delle banche più importanti del vecchio contiente BMP, Touchbank, SG e Unicredit un prezzo denaro lettera anche qui leggermente sotto la pari ma per l'appunto una struttura non banale sì sì Riccardo questo è uno degli ultimi airbag emessi a febbraio classico cash collect con airbag quindi in caso di rottura della barriera le perdite si calcolano dallo strike che è più basso del prezzo di riferimento iniziale quindi si perde di meno sia questo cuscinetto c'è adesso un gran parlare appunto di banche come detto bene tu sì è vero il diciamo il peggio l'abbiamo visto adesso in America nella giornata di ieri però ovviamente c'è una certa correlazione anche oggi appunto le banche europee sono in sofferenza e comunque ecco un airbag che ti protegge fino a un meno 40 dei prezzi di riferimento iniziale in più ti dà un effetto di protezione aggiuntivo se viene rotta la barriera ad un prezzo che non è 100 ma sta scendendo 93,20 94,20 con il peggior titolo che dovrebbe essere Società in generale che perde circa un 9-10% quindi basket correlato paga dei premi comunque dello 0,9 al mese quindi 9 euro di premio sul 0,9 euro di premio sul nominale di appunto di 100 con anche la possibilità poi di autocall quindi come in tutte le nostre emissioni la possibilità di richiamare anticipatamente da agosto 2023 si agosto con il livello autocall che scende quindi anche in questo caso una caratteristica difensiva ulteriore perché l'autocall decresce del 5% all'anno ed ecco magari in un momento come questo si ha paura di entrare sul singolo titolo perché insomma magari la correzione può durare ancora un po' si potrebbe appunto valutare l'investimento su un cash collect quindi basket a 4 in scenari particolarmente negativi sono comunque più protetto che se invece andassi appunto ad investire sul titolo ed ho comunque un ritorno indifferente perché parliamo circa di un a questi prezzi anche di un 14-15% all'anno considerando il prezzo attuale quindi sicuramente un buon rapporto rischio rendimento per uno dei settori appunto di cui si fa di cui si parla di più soprattutto soprattutto in questi ultimi giorni lo abbiamo emesso a inizio febbraio sta tornando sicuramente interessante appunto alla luce degli ultimi degli ultimi avvenimenti ritorniamo sulla mascherina che stavamo vedendo poco fa e davvero in sintesi vi dico questo allora quando è stato emesso questo prodotto e prendo ad esempio unicredit penso che magari la conoscete meglio l'avete più nelle corde il valore di riferimento iniziale ossia al giorno in cui è stato emesso questo strumento unicredit valeva 17,86 e 8 euro per azione bene immaginatevi che unicredit arrivi a sparo 12 euro ok a 12 euro voi non stareste perdendo nulla a scadenza se hai questa condizione di avere un valore di un valore sopra quello barriera sia per tutti e quattro e sottostanti voi non perdereste niente a scadenza evidentemente il titolo avrebbe perso perché da 17,86 e 8 arriva a 12 euro bene voi non perdereste niente fino ai 10,72 e 1 euro dopo di che ipotizziamo che a scadenza non lo so unicredit valga 10 euro beh voi prendereste un rimborso commisurato a quello che è stata la differenza di performance fra i 10 euro e 10,72 ok quindi adesso non ho la calcolatrice sotto mano però la perdita mi viene da dire che sarebbe relativa adesso facciamo 10 diviso 10,72 e 1 uguale 93,27 meno 1 quindi sostanzialmente voi perdereste il 6,7 per cento più o meno avreste un valore di rimborso intorno al 93 e 3 all'incirca capite bene che al di là che il prezzo attuale però insomma nel concreto il titolo non avrebbe perso sul mercato il 6,7 per cento ma se fosse passato a 10 da quei 17,6 8,8 di strike di valore di riferimento iniziale ecco che insomma il titolo avrebbe in realtà perso il 44 per cento mentre voi andate a perne solo uno ed è airbag perché vi dà una protezione non banale quando i titoli vanno in testa coda